Un legame con Castiglione di Ravenna fatto di affetto e di scambio. È per questo che Ravenna Teatro ha deciso di portare a Palazzo Grossi la rassegna e Tempo, che fino al 1 agosto presenta più di 10 appuntamenti di musica e teatro. Collaborazioni con il territorio, uno sguardo alforese e riflessioni sulla circolarità del tempo al centro di questo progetto. E quindi è partita l'idea, in convenzione con il nostro Assessorato alla Cultura, con il Comune di Ravenna, di fare questo viaggio di più di 10 appuntamenti a Castiglione di Ravenna, a Palazzo Grossi. Una serie di appuntamenti che hanno il titolo, la rassegna, il titolo di un verso rubato a Nebio Spadoni e Tempo. Perché è un territorio che amiamo particolarmente, perché a Castiglione da più di 15 anni c'è un'esperienza dell'anno scuola molto forte. Ogni anno più di 40 ragazzini giocano al teatro, col teatro delle Albe. Perché c'è un pullman di spettatori che ogni anno da Castiglione parte per venire alla Lighieri e al Rasi a vedere la stagione dei teatri. Perché è un territorio fertile, è un territorio dove è importante portare delle opere e provare a fare comunità con queste visioni. Non siamo soli a fare questo percorso, c'è Ravenna Teatro, ma c'è anche il Cisime, il lato oscuro della costa. E poi ci sono delle realtà del territorio, che normalmente d'estate fanno il loro festival.